Bella a tutti i miei Slime, qui a bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e oggi andiamo a parlare di Lil Uzi Vert. Come state vedendo sto cercando di parlare un po' di tutti gli artisti americani partendo da quelli che più mi piacciono, infatti Lil Uzi Vert oltre a essere uno dei miei preferiti è uno dei primi che mi ha fatto approcciare al rap americano. Quindi se non ho ancora trattato di qualcuno datemi giusto il tempo di farlo, magari scrivetemi nei commenti i rapper di cui più volete sentirmi parlare. Oggi è il turno di Uzi all'anagrafe Symer Woods nato il 31 luglio 1994 a Filadelfia. Tra i suoi ascolti adolescenziali troviamo un sacco di artisti appartenenti anche a più generi e tra questi Wiz Khalifa, Mick Mill, Marilyn Manson, My Chemical Romance e altri. E questo incrocio di generi per lo più rap e rock influenzerà Uzi tantissimo sia nella sua musica che nel suo stile e nel suo immaginario. Iniziò a rappare in secondo superiore dopo aver sentito un freestyle di un amico suo di classe sopra un beat di Chris Brown. Formò un gruppo con questo suo amico che si chiamava Aston e un altro chiamato Stakedown che poi si sciolse quando Uzi aveva 17 anni. Dopo essersi diplomato comincia subito a lavorare in un negozio di alimentari ma questa esperienza durerà soli quattro giorni perché poi Uzi si licenzierà. Per questo però fu anche cacciato di casa dalla madre e ciò porterà al primo tatuaggio di Lucy Vert ovvero la scritta Fate sulla fronte. Non è una novità che i rapper americani decino di tatuarsi la faccia e non è neanche una scelta poi così banale perché tralasciando lo scandalo, lo scoop e tutto il resto è un modo per automotivarsi a raggiungere i propri obiettivi. Il suo primo nome d'arte non è quello che conosciamo oggi ma sia la vertical non so se l'ho pronunciato correttamente. Tuttavia decise poi di switcharlo in il Lucy Vert dopo che una persona che ascoltò il suo modo di ripare lo descrisse appunto veloce come una mitraglietta. Il suo primo progetto si chiama Purple Tots volume 1 ed esce nel 2014. Lo stile è parecchio distante da quello che conosciamo oggi ma tuttavia si può già intravedere qualcosa dell'Uzzy attuale. Il singolo White Sheet viene prodotto da Space Ghost Park che per chi non lo conoscesse è un'icona nell'ambiente underground americano ed esce anche un video su YouTube. Con questo lavoro riesce ad attirare l'attenzione di più persone influenti nell'industria musicale. Su queste tra tutti la Sap Mob e Don Cannon produttore e talent scout possiamo definirlo così della Def Jam. Ma proprio quest'ultimo come lo scoprì? Essenzialmente DJ Diamond Kush suonò un pezzo di Uzi estratto da The Real Uzi il suo primo mixtape uscito appunto dopo Purple Tots e dopo la pubblicazione di questo progetto Uzi firmò il suo primo contratto discografico con Atlantic Records. Successivamente alla firma escono una serie di singoli tra questi What Do You Want prodotto da Carnage fit Rich The Kid e Asap Ferg, No Weight e Pressure fit Lil Dark e Day Love tra l'altro queste ultime due canzoni prodotte da Metro Boomin e pubblicate su SunCloud. Partirà poi in tour con i Fallout Boys e Wiz Khalifa nel 2015 verso la fine dell'estate agosto e ad ottobre uscirà il suo secondo mixtape Love Is Rage. La prima versione dell'album prevede 16 tracce tuttavia dopo fu caricato anche su Spotify e i vari servizi di streaming con quattro tracce in meno per problemi di copiere. Tra i fit spiccano sicuramente Wiz Khalifa e Yantag. Collaborazioni molto prestigiose se si pensa che ai tempi Uzi era praticamente un emergente, Wiz Khalifa addirittura era uno dei suoi idoli e Yantag vabbè non servono manco parole per descriverlo. Tra l'altro la canzone in collaborazione con lui, Lamborghini Dream, secondo me è una hit assurda e colgo l'occasione per dire che la trovate insieme a tutte le hit che ho selezionato personalmente di Lil Uzi nella playlist che ho fatto e il link è qui in descrizione. Tra i produttori invece troviamo Don Cannon, TM8080, Molly Raw e Sony Digital che riescono a stendere un tappeto musicale perfetto che si sposa con lo stile di Lil Uzi. Dietro il titolo dell'album c'è un concept un botto figo secondo me. Love Is Rage tradotto significa l'amore e rabbia o odio ma love non è scritto come appunto si dice normalmente ma l u v che sono le tre iniziali di Lil Uzi Vert quindi possiamo interpretare il titolo anche come Lil Uzi Vert e rabbia. In più lo stesso Uzi ha ribadito in un'intervista del 2016 di essere una rock star e di essere appunto lui stesso rabbia definendo l'amore una cosa buona che però è orribile allo stesso momento per certi altri aspetti e questo lato scuro dell'amore lo si può sentire nelle sfumature dark che prende l'album in certi punti. Diversi magazine e siti hanno incoronato Lil Uzi Vert l'artista rivelazione del 2015. Inizia il 2016 con un concerto per memorare la morte di Asap Yams che per chi non lo conoscesse è uno dei membri fondatori dell'Asap Mob. Rilascia anche il singolo Money Longer su SoundCloud, il primo estratto del suo prossimo tape in uscita. Il 15 aprile 2016 pubblica il suo terzo mixtape e primo commerciale, Lil Uzi Vert vs The World, che debutta al trentasettesimo posto nella classifica Billboard 200 facendo così esordire Uzi per la prima volta nella chart e più tardi l'album verrà anche certificato disco d'oro. Composto da nove tracce, come dicevo prima Money Longer il primo singolo è unico perché in realtà Uzi e Tempi droppò questo album abbastanza sorpresa, nessuno se lo aspettava. Zero featuring mentre a livello di produzioni troviamo il solito Don Cannon, Wanda Girl e soprattutto Metro Boomin. La cover dell'album ma anche il titolo è ispirata al film Scott Pilgrim vs The World, a cui rende omaggio nell'ultima traccia intitolata proprio Scott & Ramona. In più potete notare sulla testa di Uzi una ragazza, è Brittany Byrd, una fashion designer con cui Uzi è stato insieme da 2014 al 2017, che lo ha aiutato e influenzato tantissimo soprattutto all'inizio della sua carriera da ogni punto di vista musicale, personale e dello stile. Sono tantissime le canzoni che le ha dedicato ed è presente anche nel video di Money Longer. A mio avviso questo progetto è il suo migliore album e quello che io personalmente preferisco tra quelli che ha fatto. Troviamo un Lil Uzi Vert nel pieno del suo processo creativo e ancora oggi quando ascolto quest'album è come solo ascoltarsi per la prima volta non mi ha mai stancato. C'è ogni tipo di sfumatura del suo sound, dai pezzi più epi come Money Longer a quelli più trap come Baby Are You Home e anche quelli più sad come Team Rocket. A giugno viene selezionato da XXZ nella Freshman Cypher del 2016. Edizione ormai iconica e a mio parere tra tutte quelle che ci sono state è sicuramente la migliore. Il 31 luglio invece droppa un altro mixtape, The Perfect Love, in occasione del suo compleanno. Formato da dieci tracce troviamo all'interno Future, Carty e Offset, tra i produttori spicca il nome di Zethoven, un veterano della scena. Tra l'altro con Future si tratta proprio di una delle loro prime collaborazioni e vedremo poi il loro rapporto come si evolverà con il tempo. Personalmente lo metto un gradino sotto rispetto all'Love is the World ma resta comunque un album bellissimo. Se qualcuno dovesse chiedermi da dove incominciare ad ascoltare Uzi, io probabilmente li faria ascoltare per la prima volta questi due lavori. Il 31 agosto esce Bad & Bougie in collaborazione con i Migos, traccia che poi farà parte di Culture, il loro album che uscirà a gennaio. Con l'uscita del disco poi la canzone diventerà prima nella Billboard Hot 100 e questo decreterà un record per i Luzi Vert, la sua prima hit al primo posto della chart. A novembre poi esce anche un tape in collaborazione con Gucci Mane su cui non mi soffermerò più di tanto visto che non è un progetto propriamente ufficiale ma anche qui troviamo un paio di hit e annuncia anche il nome del suo prossimo progetto, Love is Rage 2. Come dicevo prima, passa un 2016 infuocato, il 2017 inizia ancora meglio visto il record di Bad & Bougie e in questo periodo viene anche accusato di essere satanista e nascono una serie di complotti su di lui. Per esempio partiamo dal più stupido, il suo nome. Se voi lo leggete un attimo di più con lo slang americano esce una cosa come Luzi Vert e se ci fate caso in Eternally Take proprio all'inizio di una sua canzone fa una cosa tipo It's lo Luzi Vert che se ascoltiamo più attentamente più che l'Ilusi Vert sembra Lucifer, Lucifero, il nome del diavolo. Ma se posso permettermi essenzialmente queste sono tutte stronzate. Lui ha spiegato che in primis il suo idolo è Marilyn Manson, una persona che comunque a tutti gli effetti supportava Satana e quindi lui non ha fatto altro che ispirarsi. Poi a mio avviso anche lui ci ha un po' giocato su questo meme. Poi il tempo continuava a passare e notizie di Luvis Rage 2 non ne avevamo se no un qualche snippet che caricava sui social fino a quando il 4 aprile esce EXO TOUR LIFE. Il titolo della canzone non è casuale perché in quel periodo era in tour con The Weeknd e la suonò per la prima volta inedita durante una delle tappe. Debutò solo al 49esimo posto sulla classifica Billboard e dico solo perché il singolo ad oggi è certificato sette volte disco di platino. In Italia addirittura due. È anche uno dei pezzi più streammati nella storia di Spotify e a tutti gli effetti con questa hit l'Ilusi Vert diventa un artista mainstream. Le vibes della canzone sono prettamente dark con qualche sfumatura anche un po' emo o comunque in chiave sad. Come dicevo prima il tempo continuava a passare e notizie dell'album non se ne avevano. Uzi in colpa a Don Cannon dicendo che appunto era lui che stava rallentando i lavori. Perlomeno le collaborazioni non mancano in questo periodo anzi escono una serie di singoli che non fanno altro che caricare l'hype di Uzi. Tra questi walk up like this con Carty, Cozy Tapes volume 2 con la Sap Mob, RF con Asap Rocky, Frank Hochan, Carty e Quevo. Il 24 agosto Uzi a sorpresa annuncia la data d'uscita di Lovis Rage 2 prevista proprio per il giorno dopo. Ricordo benissimo il momento proprio perché l'ho vissuto in primis. L'hype era altissimo visto anche la lunga attesa. Debutta al primo posto nella classifica Billboard vendendo 135.000 copie. Ad oggi è certificato doppio platino. Composto da 16 tracce più tardi uscirà una deluxe con 4 tracce aggiuntive tra l'altro 4 bombe. Pensate che 10 canzoni su 16 finiscono nella Billboard Hot 100. Tra i feat su tutti spiccano i nomi di Pharrell Williams e The Weeknd. Tra l'altro proprio con Abel danno vita a una canzone intitolata Unfesi. Dà le sonorità molto trap. Ed è molto figa perché The Weeknd con un sound del genere non lo si sente ogni giorno. Si sente nettamente la differenza tra mixtape e album ufficiale. È un lavoro molto più maturo con un concept lavorato molto meglio e proprio studiato. Tuttavia se devo essere sincero è un album che non si può negare che sia bellissimo ma non lo inserisco personalmente tra i migliori lavori di Uzi. Non mi ha fatto proprio impazzire. A settembre dello stesso anno Uzi dà qualche indizio per il suo prossimo lavoro e da quello che si capisce che lui lascia intendere si pensa possa essere Love is the World 2. Ma questo lo vedremo venire alla luce molto più avanti. Tra l'altro si vocifera anche di un mixtape in collaborazione con Playboy Carty che tuttora penso ogni fan di Uzi e Carty sta aspettando ma ragazzi mi dispiace dirlo ma non credo che uscirà mai più. A maggio Don Cannon svela che nel 2018 il rapper di Philadelphia avrebbe droppato un album e a luglio Uzi annuncia il suo prossimo album utilizzando due semplici parole eternal e take. Verso la fine del mese pubblica la prima cover scelta per l'album totalmente ispirata a Evans Gate che per chi non sapesse cos'è è una setta ufologica che nel 1977 commise un suicidio di massa. Rimasero vive solo due persone che impedirono di usare questa cover per l'album in quanto Uzi non possedeva i diritti. Il 18 settembre rilascia New Patek quella che ai tempi si pensava fosse il primo estratto dell'album ma poi scopriremo che non è così è anche uno dei pochissimi singoli pubblicati in quell'anno da Lil Uzi Vert. Un 2018 del rapper non poi così esaltante perché di singoli ne pubblica pochi. Certo appare in album come Harvard Dropout di Lil Pump ma la sua musica lascia un po' desiderare. Ad aprile 2019 visti i problemi passati con la sua etichetta e visto che continuavano a rallentare l'uscita dei suoi lavori decide di tagliare completamente i ponti e firma un nuovo contratto con Rock Nation. Per celebrare l'occasione pubblica due singoli Sanguine Paradise e That's A Wreck. Ciò ovviamente fece subito pensare a un'uscita imminente dell'album ma anche in questo caso dovremo aspettare ancora un po'. Arriviamo così al 13 dicembre data in cui esce Futsal Shuffle 2020 il primo singolo a tutti gli effetti di Eternal Ethake. Una hit assurda molto particolare che ai tempi mi fece totalmente perdere la testa. Il primo marzo esce That Way il secondo singolo dell'album un botto dalle sonorità 2016 del rapper. E infine il 6 marzo esce finalmente Eternal Ethake. Album che ovviamente non può non debuttare al primo posto nella classifica Billboard vende 288.000 copie nella prima settimana e non finisce qui perché la seconda ne vende 250.000. Ciò ovviamente grazie anche alla pubblicazione della Deluxe Edition, praticamente un altro album, Love Yes The World 2. Andando con ordine, Eternal Ethake è composto da 18 tracce, un solo feat Seed e segue uno schema ben preciso. L'album è suddiviso in tre parti, ognuna delle quali rispecchia un alter ego di Uzi. Dalla traccia numero 1 alla numero 6 abbiamo Baby Pluto, dalla 7 alla 12 i Renji e dalla 13 alla 18 l'Ilusivert. E se riascoltate meglio l'album sapendo anche questa cosa vi accorgerete che queste parti effettivamente hanno delle sonorità leggermente diverse. In più se analizziamo la copertina dell'album si vede l'Ilusivert sull'astronave che sta partendo, mentre la cover di dietro, ovvero la tracklist, non è altro che la gente che lo aspetta al suo ritorno. La Deluxe invece è composta da 14 tracce ed essenzialmente qua troviamo tutti i feat non presenti in Eternal Ethake. Chief Keef, The Untung, 21 Savage, Ganna, Lil Dark, Future e tanti altri. Non vi so ancora dire sinceramente quale mi piace di più. Entrambi ogni volta che li ascolto è come se li ascoltassi la prima volta e a mani bassissime rientrano dei lavori più maturi di Lil Ulusivert. Personalmente li inserisco tra le migliori uscite dell'anno. Il 30 luglio invece in collaborazione con Future escono Patek e Over Your Heart, due singoli che subito fanno alzare un hype della Madonna a tutti perché fanno subito pensare a un probabile joint album dei due. Pluto per Baby Pluto uscirà poi il 13 novembre ed è composto da 16 tracce, 14 delle quali in coppia e un singolo a testa. Io purtroppo feci anche la reaction che mi hanno levato quindi Rip Reaction mi dispiace tantissimo perché mi era piaciuto un sacco come era uscita. Quindi vi dico qui cosa penso ovviamente una bomba. Forse l'unico difetto è che è un po' pesante perché dura un po' assai, il mix poteva essere fatto meglio in alcuni punti dell'album ma comunque un progetto validissimo. Pochi giorni dopo hanno pubblicato anche una deluxe edition contenente 6 tracce aggiuntive più i due singoli già usciti Patek e Over Your Head. L'album anche commercialmente è andato piuttosto bene, 105.000 copie vendute nella prima settimana. Sembra così concludersi il 2020 di Lucy Vert che ad inizio anno aveva promesso un ritorno del 2016 e direi che è uno dei pochissimi artisti ad averlo fatto davvero. Questo è l'illusi vert è quello che io personalmente penso di lui. Voi cosa ne pensate invece? Avete un suo album preferito? Cosa ne pensate del suo 2020? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mi invito a lasciare un mi piace, a scrivermi anche magari il nome di qualche artista di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo con un prossimo S.L.A.T.